Ecco, ora iniziamo la preparazione della pasta ai fagioli, con fagioli borlotti di lamò. I fagioli sono stati messi in acqua, ad ammollare un pochettino, per 8 ore, e adesso li cuociamo in pentola a pressione, per circa 10-15 minuti. Ecco, uno dei trucchi è quello di non cucinare i fagioli nell'acqua di cottura, nell'acqua di ammollo, diciamo così. Chiudi. Ecco, mettiamo i fagioli nella pentola. Ora, riempiamo fino a un certo livello d'acqua, acqua fresa naturalmente. I fagioli sono nella pentola a pressione e saranno 10 minuti a partire dal fischio. Ora, iniziamo a lavare le verdure, gli altri ingredienti con cui prepareremo questa pasta ai fagioli. Carote, sedano, cipolle, aglio. Dopo sarà aggiunto anche prezzemolo, naturalmente anche un po' di pelati e sale, quanto basta. Delle verdure, sedano, prepariamo un po' le carote. Bene, le grattiamo un po'. Togliamo via la parte. Tutte le verdure sono rigorosamente biologiche. Dopo il lavaggio, dopo la pulizia e il lavaggio, le taglieremo, taglieremo tutta la verdura a radini. Per aggiungerla, insieme ai fagioli, che preventivamente saranno tolti dal fuoco e saranno passati. oppure, si possono anche lasciare interi, che anche le verdure siano pronte, facciamo altri 5 minuti di pentola a pressione e dopo di che passeremo il tutto. Ecco, abbiamo anche dell'aglio, sbucciamo dell'aglio, che spezzetteremo un po', bene, un po', guardami bene, ecco l'aglio, carote, procediamo sempre con le verdure a fare sedano a pezzettini, sempre, ad adetti, citiamo anche le foglie di sedano, le foglie di una pianta hanno sempre proprietà un po' diverse rispetto al gambo, proprietà alimentari, assolutamente, rispetto al gambo e alle radici. Anche la cipolla. Anche la cipolla. La cipolla tiene proprietà salutari. Sarebbe ottima anche come anti-diabete, se si mangiasse anti-candida e anti-diabete, se si mangiasse, però, ripeto, è una cosa abbastanza difficile da gustare, se si mangiasse succo di cipolla crudo ogni mattina. Ecco, lo attraversiamo anche la cipolla. Intanto si inizia già sempre il fischio dei fagioli, la pentola che entra in pressione, filma un po' qua, tutto come per la cipolla. Ok, aspetta, aspetta, guarda, guarda, guarda qua. Aggiungiamo un po' di olio, extravergine di oliva, italiano, i pomodori pelati. Aggiungiamo. Ecco. Con un po' di acqua. Non uso più male. Ok, un po' di acqua. E questo preparato, aggiungiamo ancora un po' di olio e sale, adesso ho metto anche sale. Intanto i fagioli sono andati già a pressione. Un po' di odori, qui in alto. rosmarino, che dà un ottimo sapore alla pasta e fagioli. Alcuni mettono il rosmarino anche accompagnato da un po' di pancetta, ma in questo caso noi facciamo una zuppa di fagioli, una pasta e fagioli completamente vegetariana. Un piatto completo di cereali e proteine. Un piatto veramente completo, invernale. Mettiamo un po' di salvia. Prezzemolo. Prezzemolo. Mancavano aggiungere un po' di sale. Un po' di sale che dà un po' di gusto. E dopo tutto questo composto sarà messo nella pentola quando i fagioli, quando speggeremo. Ecco, abbiamo lasciato i fagioli dieci minuti in pressione. Abbiamo scoperto la pentola. E da un po' aggiungeremo, lasciamo un attimo che raffreddino lentamente, aggiungeremo questo composto di verdure. Sedano, carote, cipolle, aglio, varie spezie, olio e sale. Lo aggiungeremo ai fagioli e per altri 4-5 minuti al massimo di cottura ai fagioli. Oggi c'è un pari a cofre dei fagioli. Sì. Ecco. La mia assistente è una bambina che sta imparando a cucinare. mia figlia. E aggiungiamo il composto piano piano, perché se no ci sbruciamo. Stai attenti agli schizzi. Stiamo attenti agli schizzi. Ecco. Piano piano aggiungiamo tutte le verdure che prima abbiamo grossolanamente tagliuzzato. Va bene. Grazie. La pentola a pressione sta entrando in cottura per 3-4 minuti, come abbiamo detto prima, col composto dei fagioli e le verdure. Ho già preparato, a parte, la pentola con acqua, dove butterò della pasta integrale e lascerò, quando sarà bollire, naturalmente, e lascerò bollire per metà del tempo di cottura della pasta, perché il resto del tempo la pasta, che in questo caso sono dei vitali irrigati, come potete vedere dall'immagine, pasta integrale biologica, ripeto, a metà della cottura e metà della cottura la farà in acqua e metà la farà nel preparato, nel minestrone di fagioli. Bisogna sempre ricordarsi di non aprire la pentola a pressione finché la pressione non è scesa, quindi il tempo passa. Intanto l'acqua ancora non bolle. Va bene, siamo comunque nei tempi. Ho aperto la pentola a pressione e adesso mi appresto. Questa è, già si sentono degli odori ottimi, eccezionali. Eh sì. E mi appresto col mini-pimmer a triturare questo composto, cercando di farne una crema, cercando di renderla più cremosa possibile. Anche perché, personalmente, sono un po' contrario a mangiare i fagioli interi con la buccia, perché possono provocare, ma non solo a me, a molte persone possono provocare delle irritazioni al colon con relativa flatulenza. Ecco, con il mini-pimmer. Un attimo. Puoi chiudere, puoi chiudere. Penso che di aver fatto abbastanza, di averla resa abbastanza liquida. Allora, appoggiamo il mini-pimmer. E vediamo un po' la consistenza. Sì, va abbastanza bene, mi pare. Sì, 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 sì. Ecco. E... Dovrebbe cuocere in 11 minuti, 5 minuti in acqua e 5 minuti in questo liquido. Grazie. Voi vi chiedete perché faccio bollire la pasta, cuocere metà tempo la pasta in acqua e il resto finisco la cultura della pasta dentro il composto dei fagioli con le verdure. E questo lo faccio proprio per mantenere il meno possibile sotto calore le verdure stesse, i fagioli stessi, perché se dovessero stare 11 minuti insieme alla pasta perderebbero ulteriormente alcune proprietà nutritizie che rendono la pasta e i fagioli uno degli alimenti più sani che si possa... di cui ci si possa alimentare. Passiamo al travaso. Spassati 5 minuti e il resto, degli altri 5-6 minuti, poniamo la pasta direttamente nella zuppa. Spassati 5 minuti e la pasta e i fagioli sarà pronta. La pasta e i fagioli pronta da servire in tavola. Ancora fumante. Se volete potete aggiungerci un po' di olio extravergine di oliva, oppure lo aggiungerete direttamente nel piatto e per renderla ancora più sapolita potete anche aggiungere del parmigiano reggiano o semplicemente del grana padano, come volete in ogni caso entrambi ottimi prodotti. Grazie. 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 Grazie.